Ed ora una delle più belle voci italiane d'emergenti, la voce di Calzedonia, Dorotea Mele, che ormai è diventata famosa in tutta Europa. Codiamocela, sentila che arriva. E chi non la conosce questa canzone? Ti fa venire in mente quella gran bella ragazza di Sara Sampaio. Eh sì, a me fa venire in mente lei e i suoi magnifici costumi. Grazie a tutti. 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 Sarah Sampaio ancora una volta confermatissima testimonia alle donne immagini della vostra azienda. La modella numero uno del momento, la persona che effettivamente rispecchia il calzedonia style, ha un'immagine che buca il video e che entra dentro i cuori delle nostre ragazze.